Il Bando Sostegno agli investimenti produttivi per il rilancio della crescita economica e della competitività vuole favorire i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione delle imprese nelle aree colpite dal sisma. Con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, il Bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese in forma singola. I progetti ammessi devono investire negli ambiti tecnologici previsti dalla strategia di specializzazione intelligente, finalizzati in particolare alla creazione di nuove unità produttive o all'ampliamento o ristrutturazione delle esistenti, alla diversificazione e creazione di nuovi prodotti. Le spese ammesse riguardano, per esempio, opere murarie, acquisto di macchinari e attrezzature, acquisti di programmi informatici, brevetti, know-how e consulenze su nuove tecnologie. Le domande di partecipazione potranno essere presentate sul sistema informatico SIGER dal 1 ottobre 2018 fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Tutte le informazioni sul sito della Regione Marche. Grazie a tutti.